Beni per oltre 9 milioni di euro, tra cui il complesso turistico Parco delle Rose di Castelvolturno, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanze agli amministratori di sette società del gruppo Coppola. 20 le persone indagate eseguite perquisizioni, accertata l'omissione dei versamenti dell'IVA per svariati milioni e l'uso in compensazione di crediti tibutari ritenuti inesistenti. Il gruppo aveva organizzato anche una complessa banca dati. La DDA ha dovuto nominare due consulenti informatici. Un importante filone dell'inchiesta, delegato dalla Guardia forestale, verte su un presunto traffico di rifiuti speciali. Collaboratori di giustizia e attività investigative hanno infatti confermato e scritto in una nota della forestale un articolato sistema di illecita gestione dei rifiuti e di aggiramento delle norme fiscali posto in essere dal gruppo Coppola che, come noto, afferisce a soggetti dell'alta sfera industriale nazionale ed internazionale. Il gruppo, emerso dalle indagini, aveva organizzato addirittura una propria banca dati riservata attraverso un server d'architettura informatica molto complessa per il quale la DDA ha dovuto nominare due consulenti informatici. Le perquisizioni hanno anche riguardato le private dimore degli indagati e laboratori di analisi fisico-chimiche che hanno rilasciato certificazioni non conformi relative ai rifiuti. In particolare sono stati perquisiti 25 siti con un dispiegamento di forze pari a 150 unità tra persone del Corpo Forstale dello Stato e della Guardia di Finanza.